ciao amici benvenuti sul mio canale youtube guardando i video meno recenti di un anno due anni fa ho trovato un video di una focaccia focaccia con le olive che era stata fatta con insieme al gruppo di rosa difonso ma quello vecchio perché poi lei ha aperto un altro gruppo che sta andando molto bene devo dire scusatemi vicino al microfono però ho visto erano i primi video che facevo quindi qualche imperfezione c'era tipo la musica troppo alta ho deciso di rifarlo quindi rifarò questa focaccia con tutti i passaggi e li vediamo insieme bene amici e a dopo eccoci qua ho preparato tutti gli ingredienti li ho messi in descrizione all'inizio e anche se io ho diminuito un pochino le dosi quindi in proporzione invece di 500 grammi di farina non messi 300 in proporzione ho diminuito l'acqua e la pasta madre ma voi seguite la ricetta per intero e comunque l'idratazione intorno ai 65 per cento quindi se volete potete farlo anche anche voi bene metto avete visto ho sciolto la pasta madre prima con un po d'acqua poi metto tutta la farina e ci verso tutta l'acqua e il sale io metto solo un cucchiaino ok andiamo poi a far girare in planetaria la planetaria la faccio girare all'incirca per cinque minuti cinque minuti bastano però anche 67 va bene lo stesso non è che dobbiamo essere così precisini ok poi ho liato abbondantemente un contenitore faccio così qualche piccola piega in questo modo mi aiuto molto molto morbido l'impasto quindi mi sono aiutata con con l'olio eccolo qua ora l'ho coperto con la pellicola e vado a metterlo in frigo fino a domani il giorno dopo l'ho ripreso vedete raddoppiato e l'ho messo fuori a temperatura ambiente per almeno tre ore dopodiché eccolo qua ho preparato una teglia nel forno ci metto un po d'olio poco così ok e ci verso l'impasto come vedete molto molto morbido ancora ecco qua ora vado ad allargare ma mi bagno le dita con un po di olio così vado meglio ora questa teglia 32 per 28 forse anche troppo grande però mio marito la focaccia la preferisce un po bassina poi vi ricordate ho diminuito un pochino l'impasto ma per un impasto di mezzo chilo di farina va bene vi verrà sicuramente più alta della mia ok bene finisco di allargare ecco qua ora questa dovrà lievitare va lasciata lievitare io adesso la copro con la pellicola ma poi la tolgo la tengo un'ora un'ora e mezza anche due perché adesso fa freddo sono già cambiati i tempi di lievitazione perché la temperatura si è abbassata tantissimo siamo a fine ottobre la lascio così per un'ora e mezza un'ora e mezza due ore poi la tolgo al limite con le mani che le mani unte di olio la ritocco un pochino rifaccio delle fossette così e la lascio scoperta ancora lievitare restare almeno tre ore poi vedrete che si formano le bolle in superficie quando sta facendo le bolle allora già pronta quasi intanto che finisco volevo ricordarvi non so se già ve l'ho detto scusatemi ma mi stanno arrivando molte richieste di amicizia sul mio profilo privato di facebook e io mi dispiace ma non posso accettare accettarle tutte non è possibile però se volete mi trovate sulla pagina erica official erica con la k e su youtube su youtube erica trombetta ok quindi ci vediamo la ci sono già i collegamenti sulla copertina di youtube per per questa pagina detto questo vediamo lasciamo lievitare questa focaccia e qui siamo dopo tre ore vedete già si stanno formando le bolle adesso vado di nuovo a toccarla e fa leggermente delicatamente per creare le fossette le fossette dove metterò le olive snocciolate io le ho tagliate a metà le sto mettendo nere perché mi trovo queste ma potete benissimo mettere quelle verdi a bene una volta sistemate tutte le olive ho preparato con mezzo bicchierino di olio e un emulsione con il sale ci ho messo del sale dentro così non c'è bisogno poi di metterlo sopra oppure se avete quel sale marino non finissimo quello granulare se vi piace lo mettete sopra metto l'olio così finisce dentro le fossette nel frattempo il forno sta andando a temperatura questa va infornata a 220 gradi quando è bella dorata sopra spero toglietela poi come sapete dipende dipende molto dai vostri forni ok allora andiamo ad infornare forno a 220 gradi fino a che non è bella dorata sopra volevo ricordarvi che questa è una ricetta un video vecchio che ho ripreso era una ricetta avevamo fatto con rosa di fonso però da quel gruppo rosa poi ne ha creato un altro nuovo che va benissimo si chiama a nuvola un amore di pasta madre bene ciao a tutti vado a farcire questa pizza si può mangiare anche così come volete però volendo si può aprire e dentro ci mettiamo quello che vogliamo nel nostro nel mio caso come piace al mio merito ci metterò un po di suprema di mortadella suprema ciao a tutti amici ci vediamo al prossimo video ciao ciao